Il progetto di oggi nasce con la grande collaborazione con Junior Achievement. Abbiamo raccolto 100 ragazzi da un paio di scuole negli intorni di Milano, Milano e fuori Milano e li stiamo facendo lavorare su una delle nostre app, partendo da una delle nostre app che è l'EV8, un'app che aiuta a sviluppare competenze digitali di base con questi ragazzi. Loro ce l'hanno sotto mano, in realtà abbiamo creato una Mission Impossible, quindi una quasi storia parallela a quelle già presenti nelle app, dovranno usare CiaGBT da lì per riuscire a risolvere questo mistero perché sono scompasse le pubblicità su Instagram e stanno cercando un'amica hacker. Hanno un'ora di tempo adesso per iniziare a fare il primo pezzo del loro lavoro giornaliero e da lì partiranno poi i lavori della giornata. Ci verranno presentate delle proposte a fine giornata, è un'attività che stiamo facendo molto anche vicino alla giornata di promozione della cultura STEM per le donne che era l'11 febbraio e quindi è abbastanza tutto rivolto allo sviluppo e alla promozione di competenze digitali femminili.